Uso la famiglia in termini tipicamente come sono abituato a Napoli, le tre famiglie più ricche al mondo, la prima la conoscete, quella di Bill Gates, le tre famiglie più ricche al mondo hanno l'equivalente finanziario, loro tre, del prodotto nazionale, loro hanno di 48 stati africani che rappresentano 600 milioni di persone.